Buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi nella lettura del mio racconto La leggenda dell'urlo del drago dell'episodio numero 4 L'allenamento Arrivata mattina, Shui, eccitato dalla missione per salvare la Cina, andò dai quattro re draghi, i quali gli dissero Bravo Shui, notiamo con piacere che sei riuscito a dormire. Dunque, per prepararti al meglio allo scontro contro Quidditch e il Kung Peng, dovrai allenarti con vari esercizi del guerriero dragone. 1. Fare atletica 2. Eseguire il Kung Fu, Karate 3. Ottenere un buon equilibrio, cercando di non cadere 4. Ogni giorno a colazione quattro tuorli d'uovo appena sbattuti. Una volta che avrai eseguito con successo queste prove, sarai pronto al combattimento. Shui, orgoglioso di sé, iniziò i test, e dopo solo una settimana il ragazzo migliorò tantissimo, migliorando notevolmente la sua agilità e le sue capacità. I quattro re draghi, soddisfatti dai buoni risultati di Shui, affermarono che era pronto per la missione. Così essi, insieme a Shui, si diressero verso il Kung Peng, allo scopo di fermare la siccità, per riportare la pace in Cina. Questi sono i quattro draghi, e questo è Shui. Bene, vi ringrazio dall'ascolto, lasciate un like se vi è piaciuto, grazie alla prossima, ciao da Davide, ciao!